per essere un'eccellenza da quattro anni nel campo della consulenza del lavoro nota per la sua preparazione la competenza e la professionalità lo studio capasso e figli che si riconferma per il quarto anno buonasera dottor capasso le faccio una domanda in merito a questa serata e le chiedo un commento sulla vittoria e il premio ottenuto una bellissima serata ci siamo riconfermati non è mai una cosa semplice però questo significa avere tanta voglia ancora tanta forza di volerci riaffermare in questo mondo mondo difficile il mondo del lavoro è cresciuto e si è evoluto e noi cerchiamo di essere al passo con i nostri competitor grazie grazie a lei gentilissimo